Si sponga, si metta qui, preferisce acqua calda fredda, temperatura ambiente, come la preferisce? Liscia cassata, come cazzo la preferisce? Venga qui, come la preferisce l'acqua? Bella calda, non sto adesso quando la vista. Si stia fermo, si cale, si chiede, no no no, questo rompo lavandino, che cazzo vuoi fare? Vedi che cazzo vuoi capire? Non c'è un tono mano con me. Che cazzo è? Io a stasera la posso fare però. Allora signore senta, io ho la sua razza, non voglio. Si metta qua, ma andai a... a dissi, a acqua come cazzo vuoi? Frida, calda, come lo vuoi? Ma padre, ma lei è un padre? Ma mi vedi in cravatta? Si chiede il cazzo lavandino che c'è, ma non ce lo vedo. Nel cazzo? Si chiede? Oh! Appena, ma lo metto con lei, io metto su un bel freddo. Ma vi chiesto stai? Lei è una persona di merda.